benvenuti su meteo giuliaci il tempo previsto per mercoledì 16 maggio dopo la fase burrascosa portata tra domenica e martedì dall'intensa perturbazione atlantica le condizioni ritorno quasi alla normalità su quasi tutta l'italia a parte una moderata in instabilità pomerigliana come potete vedere sulle alpi orientali sulla toscana nelle zone interne del centro e sulla sede insomma bel tempo su tutta l'italia potremmo dire o quasi tutta per quanto riguarda le temperature queste saranno ancora al di sotto della media sulle regioni centro meridionali termino qui un caro saluto ancora da mario giuliaci